Il finale era un song con un ritmo cubano. Dovresti avere un'idea di dove sono finiti i soldi. Un rimedio mettendo insieme i demoni di Tostoevsky che suonano in manzo il Lord Jim. E' un stato mentale, continentale, continental states of mind. Valfe, maestro, trevisa e dire sono finito. 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 Valfe, maestro, trevisa e direccio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.